Per chi inizia Per chi si rimbocca le maniche Per chi vorrebbe essere qualcosa di più Per quelli a cui la vita ha già insegnato tanto ma che vorrebbero imparare sempre di più Per chi vorrebbe che il proprio lavoro non fosse solo un lavoro Per chi crede in quello che fa Per chi fa le ore piccole Per chi è stanco della routine Per chi vuole andare oltre Per tutte le imprese che sognano in grande Dal 1991 forniamo consulenza alle imprese di pulizia professionale Analisi, pianificazione strategica, sviluppo aziendale Lavoriamo con chi vuole cambiare Con chi vuole differenziarsi Lavoriamo con chi guarda al futuro